. Uomini e donne oggi, Rama Lila incinta, è un maschietto. Rama Lila Giustini di Uomini e donne è incinta di un maschietto. . Abbiamo conosciuto Rama Lila Giustini a Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice. Alla fine del percorso televisivo, venne scelta dell'attore spagnolo Jonas Berami. La storia tra i due non è andata avanti per molto tempo, nonostante ciò i due sono rimasti in buoni rapporti. . Da qualche settimana, sul profilo Instagram dell'ex corteggiatrice, sono presenti diverse foto in cui viene mesa in mostra la pancia. . I fan però vogliono sapere chi sia il padre del nascituro, ma la sua identità rimane ancora oggi un mistero. . Certo è che si tratta di un mistero che si infittisce, perché l'ex corteggiatrice, nonostante le innumerevoli domande ricevute, non ha fatto nessun nome. . Tra i vari commenti, poi, c'è chi si chiede il sesso del nascituro. . Ebbene oggi possiamo confermarlo, nascerà un maschietto. . . Chi scrive, speriamo sia una femminuccia deve rassegnarsi, quindi, perché Rama Lila è incinta di un maschietto. . Chi è, però, il padre di questo bimbo? Tra i vari selfie, booc fotografici e foto in compagnia delle amiche, spunta una foto in compagnia di un uomo. . La foto in questione risale allo scorso luglio e ritrae Rama Lila a pranzo con un uomo. . L'ex corteggiatrice di uomini e donne però non vuole sbilanciarsi più di tanto. . Già nello studio televisivo, infatti, aveva dimostrato di essere molto riservata, tanto da confondere Jonas. . L'ex tronista ha preteso molto dalla Giustini ma, alla fine, non si è fatta conoscere al cento per cento. . La ragazza ha stupito tutti persino alla scelta, presentandosi con un passeggino e un peluche, Zenzi. . Il padre del bimbo che aspetta non è Jonas, certo è che quel passeggio ora deve tirarlo nuovamente fuori. . . Gli auguri di Jonas Berami. . Nonostante la storia tra Jonas Berami e Rama Lila Giustini sia finita poco dopo l'uscita insieme dal programma di Maria De Filippi, i due sono molto amici. . Lei ha tifato per lui durante la partecipazione alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi e ora, dopo aver saputo che la sua ex fidanzata è in dolce attesa, scrive, e ma non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzi. . . Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me. .